Festa d'autunno a Montemarciano, l'appuntamento per questa domenica 27 ottobre. Noi siamo con chi ha organizzato anche l'evento Bruciate Musica e Buon Vino, insomma nell'ambito della tradizione di questa borgata. Sì, nella tradizione anche del periodo, domenica organizziamo per la quinta volta questa festa d'autunno. È una festa caratterizzata da prodotti locali, prodotti di zona, avremo piatti tipo la ribollita, il castagnaccio, le bruciate, il faciolo zolfino. Degusteremo ottimi vini dell'area della Sette Ponti e ci sarà un percorso degustativo dove chiunque potrà degustare i nostri prodotti. E si potrà ammirare anche la bellezza del paesaggio partecipando anche a una bella escursione e allora sentiamo Samuele Benucci di Alcedo. Quando dovremo partire, cosa ci dobbiamo aspettare? In particolare lungo la provinciale del Potriolo, in zona Paella, e per questo sarà l'occasione per visitare le nostre meravigliose barzze. Ovviamente i danni fatti sono stati monitorati, anche ai bambini, alle famiglie in generale, quindi un invito a tutto il nostro territorio a partecipare a questa manifestazione che durerà la nostra parte di escursione circa due ore. Mi raccomando, visto il meteo di questi giorni, ma anche una cosa di portarsi delle scarpe impermeabili. La partecipazione è libera e gratuita. Ci sarà inoltre un mercatino con i prodotti della filiera corta, quindi sarà possibile comprare castagne, legumi e tutto ciò che è della zona. La festa ed il mercatino inizierà dalle ore 15 alle ore 19.